Luci e ombre dell'ultimo DPCM anti-Covid. Il governo ha varato regole e limiti per contenere la nuova ondata di coronavirus. Innanzitutto c'è l'obbligo della mascherina non più solo al chiuso ma anche all'aperto. E poi stop alle gite scolastiche, capienza massima di 30 persone per matrimoni, battesimi, ricevimenti. No agli sport di contatto praticati a livello amatoriale. Restano chiuse discoteche e sale da ballo, stretta sulla movida, ristoranti, bar, gelaterie e pub dovranno chiudere a mezzanotte con divieto di consumo in piedi dopo le 9 di sera. A una settimana dall'entrata in vigore del DPCM facciamo il punto con il sindaco di Vicenza Francesco Rucco. La limitazione rispetto al consumo delle bevande alcoliche ad esempio dalle 21 in poi è una limitazione che può essere utile soprattutto se vista in ottica di prevenzione rispetto agli assembramenti. Nei casi della movida chiaramente quello è l'obiettivo da parte del DPCM e quindi può tornare utile una gestione sui flussi della movida che noi avevamo già attuato con un provvedimento similare all'ordinanza che fece la ripartenza per i locali in primavera scorsa. Devo dire che aveva funzionato anche bene, quindi la possibilità di bere nei plateatici seduti e quindi era già un'iniziativa positiva che il Ministero dell'Interno ha ripreso poi e utilizzato evidentemente in questo fragente anche all'interno del DPCM. Le nuove disposizioni resteranno in vigore fino al 13 novembre. Esclusa la possibilità di un nuovo lockdown nazionale perché è economicamente insostenibile, questo DPCM pone limiti che evidentemente ricadono sui locali. È inevitabile che pone dei limiti e quindi comporta anche delle problematiche di natura economica e finanziaria per i locali. È purtroppo un sacrificio che siamo tutti costretti a fare e che compatibilmente con il rispetto delle regole potremo superare soltanto se conteniamo la malattia. Il punto che però ha fatto più discutere e che ha sollevato più polemiche ma anche più ironie è stata la disposizione che fissa a non più di sei persone la portata delle cene nelle case private. Insomma un vero e proprio provvedimento no party che pone delle domande. La prima, in un monolocale sei persone sono un assembramento ma in un palazzo con sale imponenti sei persone spariscono. In base a cosa il governo ha fissato a sei il numero massimo? E poi ancora, come verranno effettuati i controlli? Anche questa è la dimostrazione di un'esasperazione. Evidentemente va bene limitare le feste, le feste private, va bene le attività dove ci sono assembramenti di persone ma la cena all'interno dell'abitazione è limitarla a sei. A parte che c'è un problema, ripeto, di controlli che non si riuscirebbero a fare se non previa dell'azione da parte di qualcuno, però evidentemente ritengo che sia una misura inutile da questo punto di vista.